Motore HD del Peugeot Beeper TP cilindrata 1.300. Ho studiato vero Carlo? Bravo! Comincio ad essere in grado di rubarti il mestiere ma non mi interessa per cui che dici parliamo di quest'auto? Allora una delle più versatili e interessanti del del gruppo Peugeot. Se chiudi il cofano gli diamo un'occhiata. Ok. Che possiamo dire di questa di quest'auto? Macchina molto spaziosa e molto piccola all'esterno, meno di 4 metri di lunghezza, macchina che all'interno ha tanto tanto pazio grazie anche alla tua altezza. Quindi abbiamo un'auto pratica, ricca di contenuto ma che sostanzialmente poi mira al sodo. Quindi versatilità, si muove con facilità nel traffico, adatta per chi ha famiglia, per chi magari pratica uno sport, ha bisogno di caricare dal passeggino allo snowboard e compagnia. Assolutamente sì. Ho sguardo particolare, no? Un muso come pronunciato. Importante sì. Ecco, importante. Quindi con questa questi inserti no? In neri no? Sulla sulla carrozzeria. Sì, questa è la versione outdoor che quindi ha questi inserti di colore diverso dalla carrozzeria. Esatto. Mi concentro sui pneumatici di che tipo sono? Ma è un cerchio standard da 15, un pneumatico standard, ovviamente cadenabile, vista lo spazio che c'è intorno alla ruota. Questo c'è un cerchio in lamiera. Possiamo ovviamente montare anche un sciocco in lega. In lega, benissimo. Vado avanti, qui vedo scritto outdoor. Sì, questa versione si chiama outdoor, è la versione più accessoriale. Quindi? Con le barre sul tetto di serie. Ecco qua. Quindi il top di gamma di B per TP. Esatto. Poi l'apertura degli sportelli posteriori ha scorrimento. Sì. Quindi diciamo per dare la possibilità di accedere ai posti posteriori con grande facilità e con grande facilità. Benissimo, benissimo. Andiamo a vedere anche il bagagliaio. nel frattempo sentite quanto il rumore della pioggia. Bene. Il bagagliaio è molto capiente. Veramente lo spazio qui non manca. Non manca. Quindi anche il discorso di ogni tipo di carico. ma anche se uno vuole ovviamente si abbatte il sedile che è addirittura asportabile. Ah sì? Aspetta che guardo da qua che riesco a vedere meglio come come fai. Allora che cosa c'è lì? Ah. Tiro questa leva. Ah. Ok. Mi si solleva. Poi se continuo a tirare quest'altra leva lo posso tranquillamente smontare. Smontare. Vengo dall'altra parte. Ecco. Posso togliere questo questo sedile. Il sedile singolo e la coppia. E la coppia. E la coppia. Ho capito. Ho capito. Oh. Dopodiché. Dopodiché visto che stavamo parlando di bagagliaio ovviamente nel caso in cui ci sia necessità di trasformare l'auto a metano a GPL come si vede. Si può fare tranquillamente sia nell'uno che nell'altro caso. Che nell'altro caso. Oh. Se chiudiamo un attimino il portellone. Sì. Siamo dare un'occhiata. Questo inserto laccato no? Con il nome B per TP. Guardando più in basso se riesco a farlo vedere. Proprio perché dicevamo che è un'auto completamente accessoriata. Questi sono i sensori di parcheggio giusto? Sì. Questa ce l'ha come optional e questa ce l'ha già montata. Questi sono già montati. Quindi un'auto veramente da così per ogni esigenza da provare. Quindi un'auto 90 con Carlo e magari se avete delle domande potete chiedercele direttamente sui nostri canali social. Sempre qui. Benissimo. Grazie. Ciao. Ciao.